Ciao logaritmi, oggi volevo fare la seconda lezione sul sistema uditivo. Mi scuso per l'attesa, però purtroppo ho avuto molti esami da fare e quindi questo video, diciamo, avrei dovuto farlo molto tempo fa. Purtroppo ho fatto tanti esami, poi ho chiesto la tesi e quindi c'è voluto tempo. Allora, iniziamo un po' con qualche base, diciamo, di anatomia che può essere utile per capire il sistema uditivo. Non entrerò in dettaglio sull'anatomia dell'orecchio medio, quello che è importante è che dal timpano vengono trasmessi gli impulsi, diciamo, pressori, rappresentati dalle onde sonore, attraverso un sistema di tre piccoli ossicini che sono martello in cudine e staffa. Questa cosa serve, diciamo, a regolare la trasmissione del suono in modo tale che sia efficace poi all'interno dei liquidi endococleari. Quindi noi sappiamo che una pressione viene vista come forza di viso l'area e innanzitutto quello che si ha è una diminuzione dell'area. Infatti prima il suono batte sul timpano che è un'area piuttosto elevata e poi arriverà, come vedremo, alla finestra ovale dove invece l'area è più ridotta. E poi c'è un cambiamento del liquido di trasmissione perché il suono prima si trasmette nell'area e poi si trasmetterà all'interno del liquido endococleare. Allora che cosa succede? Si mette in movimento il timpano, si mettono in movimento gli ossicini e poi la staffa batte su una particolare membrana a livello di un'area che è detta finestro ovale, oval window nella figura. La finestra ovale è connessa con invece questa struttura che vedete nella parte bassa. Abbiamo infatti tre aree. Quella più alta è una struttura detta scala vestibolare, ripiena di liquido. La scala vestibolare poi è connessa tramite un piccolo angolo che si chiama elicotrema con la scala timpanica. Tra la scala timpanica e la scala vestibolare c'è la cosiddetta scala media e le varie, diciamo, scalle sono separate da delle membrane. La membrana basilare separa la scala media dalla scala timpanica e poi al di sopra della scala media è presente la membrana di Reissner. Quindi abbiamo detto che il nostro suono giunge sulla finestra ovale e qui mette in movimento il liquido all'interno della scala vestibolare. Attraverso l'elicotrema, il movimento del liquido della perilinfa viene trasmesso alla scala timpanica. A questo punto si metterà in movimento la membrana basilare, quindi questa struttura qui, sopra la quale sono ancorate delle cellule, ovvero le cellule ciliate. Qui potete vederne una, diciamo, versione in microscopia. Quindi noi dobbiamo immaginare che il liquido si muove qui, viene trasmesso poi attraverso l'elicotrema, fino a questa zona qui, e verrà messo in movimento la parte che contiene le cellule ciliate. Le cellule ciliate, muovendo, si battono verso la parte alta su una ulteriore membrana. E che cosa succede a questo punto? Succede che le nostre cellule sono fatte in questa maniera. Sono delle cellule ciliate che presentano un chinociglio e poi altre varie ciglia mobili. Queste cellule, una volta che vengono, diciamo, spinte dal basso, vengono messe in movimento e quindi vanno appunto a battere fisicamente sulla membrana e le loro ciglia si piegano verso il chinociglio. Piegandosi queste ciglia si ha l'apertura di canali che si trovano all'apice delle ciglia stesse. E questi canali sono immersi, come dicevamo, in un liquido che si chiama endolinfa. Questo liquido, il liquido endolinfatico, è ricco di una soluzione che contiene molto potassio, potassio e calcio. Quindi, al contrario della maggior parte dei potenziali d'azione, in questo caso non si ha la penetrazione di sodio, ma si ha un'entrata di potassio e in parte di calcio all'interno delle cellule ciliate che si sono così aperte. È particolare, però, che la vibrazione della membrana basale non è uguale per tutte le frequenze sonore, ma anzi, se noi immaginassimo di distendere questa struttura qui, questa struttura arrotolata, e prendessimo quella membrana, diciamo, di colore rosa che vedete e la estendessimo per lungo, questa membrana qui ha delle proprietà biomeccaniche tali per cui si può muovere efficacemente per suoni a frequenza alta nella sua parte più vicina alla finestrovale, e invece si muove verso il termine per frequenze più basse. Quindi le cellule ciliate, che si troveranno in corrispondenza delle varie parti della membrana, risponderanno a frequenze diverse. E quindi già a questo livello, a livello delle cellule ciliate interne, che sono quelle appunto che trasmettono i potenziali d'azione sonori, si avrà una organizzazione di tipo tonotopico. Quindi toni diversi verranno trasmessi da cellule diverse. E poi queste cellule ciliate trasmetteranno la loro appunto innervazione ai nervi cocleari, che poi andranno verso le vie uditive e magari questa parte però la vedremo in un'altra lezione.